Se volete tutti i veicoli dell'erci, criminal enterprise, come anche aggiunte denaro, aggiunte deluxo, proprietà, veicoli più costosi del gioco, automoddate, aggiunte rango, il tutto sul vostro account di GTA Online per tutte le piattaforme oppure account moddati al prezzo più basso d'Italia in assoluto, potete contattare GTA Dopati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. GTA Dopati, passi una volta, sei a posto a vita. Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix e oggi vi mostrerò la guida su come iniziare la vostra carriera di GTA Online nel 2023. Questa guida vale sia per PlayStation 5 e Xbox Series, la nuova versione con l'officina di A.O., la costruzione di carriera, eccetera, 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 che per PlayStation 4, Xbox One e PC. Quindi sarà una guida utile per tutti i giocatori che giocano in qualsiasi piattaforma di GTA Online. E vi mostrerò come fare milioni di dollari in pochissimo tempo, anche con un personaggio a rango 1 addirittura creato pure giusto qualche minuto fa da quando state guardando questo video. Prima di cominciare, però, per tutti i giocatori che giocano su PlayStation 5 e Xbox Series, prima di andare avanti con i video, vi consiglio di guardare video su come costruire al meglio una carriera con i 4 milioni che vi regala inizialmente Rockstar quando create un personaggio su GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series. Perché così almeno saprete come partire al meglio anche su queste piattaforme di nuova generazione e sfruttare al meglio appunto questi 4 milioni che Rockstar vi regala. La guida su come costruire al meglio la vostra carriera criminale e come spendere questi 4 milioni la troverete nella descrizione. Comunque, ripeto, sappiate che questa guida è valida per tutte le piattaforme di GTA Online. E cominciamo subito. La prima cosa in assoluto da fare, dopo essersi creati il personaggio di GTA Online e spawnati in sessione, è di crearsi un nuovo social club e impostare la verifica a due passaggi per ricevere i primi 500.000 dollari. Allora, innanzitutto andate sul sito della PlayStation o di Outlook, se siete su Xbox, e fate il login del vostro account. Dopodiché andate sul sito del social club di Rockstar, ve lo lascerò nella descrizione, e cliccate sul logo dove giocate a GTA Online. Una volta fatto questo, create il vostro account social club, cliccando qua, crea nuovo account sotto appunto dove c'è scritto il nome del vostro profilo dove giocate a GTA Online. E quando avete creato il vostro account social club, andate su impostazioni, verifica a due passaggi e scaricate un'applicazione per la verifica a due passaggi come Google Authenticator o ancora Microsoft Authenticator e settate la verifica a due passaggi nella vostra app. Fatto questo, salvate, ed entro tre giorni da quando avete impostato la verifica a due passaggi, Rockstar Games vi regalerà 500.000 dollari. Quindi, attenzione, i soldi non arriveranno subito, ma entro tre giorni da questa operazione. Benissimo, ora possiamo iniziare a giocare. La prima cosa da fare in assoluto su GTA Online, secondo me, è di recarsi al casino, comprare l'abbonamento che costa 500 dollari, e di girare la ruota fortunata per vedere un po' che cosa vi esce fuori. Questa ruota della fortuna la potete girare una volta al giorno nella vita reale. E girata la ruota della fortuna, adesso possiamo iniziare a guadagnare il primo milione con le cacce al tesoro. Le cacce al tesoro su GTA Online sono differenti, ora in questo video non vi spiegherò nel dettaglio come funzionano, semplicemente vi riassumerò quelle principali e più veloci per fare i soldi prima possibile, e quale dovete fare in ordine cronologico, a mio parere. In ogni caso io vi lascerò tutte quante le cacce al tesoro che adesso andrò a menzionare, sempre qua sotto in descrizione. Per iniziare consiglio la caccia al tesoro della Revolver Navi, che partirà praticamente cercando 5 indizi attorno alla mappa. Finiti gli indizi dovrete cercare tipo un killer, e quando avete trovato questo killer, una volta ucciso, avrete 50.000 dollari. Poi per fare altri 250.000 dollari dovrete completare la sfida con quest'arma, che andrete a sbloccare facendo questa caccia al tesoro, chiamata Revolver Navi, e dovete praticamente uccidere 50 uccisioni anche di civili, di persone che trovate attorno alla mappa, di NPC, insomma i bot controllati dal compito, i pedoni insomma, no? Che trovate attorno alla mappa, uccidete 50 pedoni con questa pistola, e riceverete altri 250.000 dollari. Quindi in teoria dovremmo già essere a 275.000 dollari, perché poi ogni indizio vi dà 5.000 dollari. Una volta che avete completato questa caccia al tesoro, fatevi quella della Revolver a doppia azione, che vi farà guadagnare 250.000 dollari. Per avviarla dovete giocare un po' in sessione, anche per questo che consiglio di fare come prima caccia al tesoro la Revolver Navi, così almeno passerà il tempo, e il gioco prima o poi vi darà appunto la mail che vi servirà per iniziare la caccia al tesoro della Revolver a doppia azione, dove praticamente vi arriva una mail al telefono, voi la aprite e quando l'avete aperta nella mappa ci sarà una zona contrassegnata di giallo e dovrete trovare appunto questo tesoro. Quindi quando avete sbloccato la Revolver a doppia azione, vi fate 50 colpi alla testa, sempre uccidendo pedoni, civili, eccetera, 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 e farete altri 250.000 dollari. Ovviamente sempre con la Revolver a doppia azione. Infine abbiamo la caccia al tesoro di Maud, dove praticamente vi arriverà questo SMS sempre dopo una decina di minuti in sessione. Se non vi arriva provate a vedere se avete la M in questo punto della mappa e raggiungete la M nella mappa, perché io ho visto che mi è spuntata la M nella mappa anche senza il bisogno del SMS. E da lì andate a trovare Maud, in questo punto della mappa, e aprite la mail soggetto per soggetto da cacciare. Quindi insomma aprite la mail, cacciate il primo soggetto, aprite la mail il secondo soggetto da cacciare e così via. Per ogni soggetto il gioco vi darà un cerchio giallo sulla mappa. Portate i bersagli da Maud e vi darà 10.000 dollari a persona. Se li uccidete invece saranno 5.000 dollari. Finiti i soggetti da cacciare, avrete sbloccato la cetta di pietra che vi permetterà di fare altri 250.000 dollari ancora, non appena avrete ucciso sempre 25 pedoni attorno alla mappa. E con queste tre cacce al tesoro siamo già a 825.000 dollari, oppure 800.000 dollari, se avete deciso di uccidere i soggetti ricercati da Maud. Queste sono le più facili e veloci, oltre quelle che pagano di più. Se volete sapere in dettaglio come fare queste tre cacce al tesoro che vi ho appena descritto, come sempre, guida in descrizione. Poi abbiamo anche la caccia al tesoro di Solomon, che si trova in questo punto della mappa. Dovete raccogliere 10 artefatti che pagano 10.000 dollari l'uno. Completandola farete un totale di 150.000 dollari, dato che alla fine della caccia il gioco vi darà anche 50.000 dollari bonus. E già ragazzi siamo a un milione, facendo anche la caccia al tesoro di Solomon. Infine, se state guardando questo video prima della mattina di giovedì 12 gennaio, altrimenti lasciate stare schippate, giorno in cui appunto scadrà la caccia al tesoro dei 25 pupazzi di neve, potete fare pure altri 250.000 dollari con la caccia dei 25 pupazzi di neve che sono presenti attorno alla mappa. Dovete cacciare appunto per tutta la mappa di Los Santos 25 pupazzi di neve, dovete distruggerli. E questa caccia al tesoro vi darà appunto un completo del pupazzo di neve, che ci interessa poco e nulla, e 250.000 dollari. Quindi ragazzi, con queste cinque cacce al tesoro completate, siamo a 1.250.000 dollari. Più poi altri 500.000 dollari che ci arriveranno nell'account nei prossimi giorni. Le più facili comunque sono le prime tre di questa lista, poi la quarta, la quinta, soprattutto quella di Solomon, sono un po' più pallose. Fatto sta che comunque, vi ripeto, ve le elencherò tutte quante qua sotto in descrizione, così le potete fare ad una ad una con calma. La cosa stupenda è che potete rifare tutte queste cacce al tesoro dalla prima alla quinta, creando un secondo personaggio, perché si possono avere due personaggi su GTA Online. Premete Start, andate su Online, cambia personaggio, fate un altro personaggio e rifate il processo che vi ho spiegato poco fa. Partite con la caccia al tesoro della Revolver Navi e fate tutte le cacce al tesoro che volete. Chiaro, non dovete per forza fare tutte e cinque le cacce al tesoro nuovamente, anche perché quella di Solomon è abbastanza pallosa, però, volendo, se le rifate tutte e cinque con il secondo personaggio, potete arrivare a due milioni e mezzo. Tre milioni, contando anche il bonus della verifica due passaggi del Social Club. Non dovete farle tutte per forza, chiaramente, anche perché, insomma, ma anche qui è un buon metodo, se siete soprattutto da soli, per fare soldi il prima possibile, insomma, i primi soldi che vi servono per partire bene. Quando avete finito tutte le cacce al tesoro che volete, che desiderate fare, anche con il secondo personaggio, depositate tutto in banca. Come si fa? Allora, depositate dal sito, andando qua su Foreclosures Maze Bank, dopodiché comprate anche solo 60 dollari di munizioni della pistola, dall'inventario, e poi cambiate un qualsiasi accessorio dal menu inventario e togliete il menu inventario per salvare tutto. In questa maniera il gioco salverà tutto quello che avete fatto. Dopodiché, start online, cambia personaggio e tornate sul primo. Se ci tenete a fare altri dollari bonus e volete sapere pure altre cacce al tesoro e altri collezionabili, anche se lo sconsiglio, perché queste che vi andrò a menzionare sono pesanti, le 54 carte del casino sparse per la mappa, i 50 disturbatore di frequenze, i 100 bambolotti per il costume da supereroe e i 100 pacchi. No, no, io non mi... Onestamente, però, ragazzi, non vi consiglio di fare queste cacce al tesoro perché sono veramente lunghissime, soprattutto se non avete una moto volante. Se volete farle, io vi lascerò anche queste qua in descrizione, però lasciate perdere. Descrizione che cercherò anche di ordinare così capirete quali cacce al tesoro consiglio e quali invece no. Benissimo, adesso abbiamo finito con la manfrina delle cacce al tesoro. Ora parliamo di altri modi per guadagnare. Un modo facilissimo per guadagnare, anche se dovete avere Amazon Prime, è quello di collegare il Twitch Prime al vostro social club e di fare accesso almeno una volta a settimana se collegate il vostro Twitch Prime al social club con cui giocate a GTA Online. Facendo accesso a partire dalla mattina di ogni giovedì del mese riceverete un bonus di 125.000 dollari a settimana, quindi se entrate ogni giovedì del mese vi potrete fare mezzo milione praticamente senza fare nulla. Un altro modo per fare tra i 100.000 e i 200.000 dollari è di completare le missioni della scuola di volo che sono abbastanza semplici se avete un minimo di basi su come si usano i velivoli di GTA in generale. Scuola di volo che si trova in questo punto della mappa e qui trovate appunto tutte le missioni da completare per fare questi dollari. Comprando un appartamento di lusso, il più basso costa 200.000 dollari, potrete avviare le primissime rapine di GTA Online che se avviate in una sessione pubblica troverete sempre dei giocatori che si uniranno a voi quando le avvierete. Può essere un ottimo modo con cui iniziare a giocare a GTA Online e fare i primi soldi anche divertendosi. Per avviarle comprate questo appartamento, dopodiché andate sulla L in questo punto della mappa, aspettate che Lester vi contatti, ritornate al vostro appartamento e iniziate di colpo in colpo. Ricordatevi solo di avviarle da una sessione pubblica o sarà più difficile trovare altri giocatori. Poi ci sono le prove a tempo che cambiano di settimana in settimana, sempre ogni giovedì mattina. Ci mettete poco a farle, completandole vi daranno 100.000 dollari. Potete farle anche con un abatto 801 che costa 16.000 dollari su Suferna e più circa 80.000 dollari di modifiche. Ogni settimana, sempre a partire da giovedì, potete trovare sempre una prova a tempo diversa. E anche qui sono 400.000 dollari al mese se fate ogni settimana la prova a tempo. Ci state veramente pochissimo a farla. Addirittura, se siete su Next Gen, ci sono anche le prove a tempo di AO che pagano 250.000 dollari, che si possono attivare solo con i veicoli usando le trasformazioni di AO. Se però completate la prova a tempo di AO, il gioco vi regalerà una trasformazione gratuita da applicare sul veicolo di AO. Questa è la lista dei veicoli che possono avere i potenziamenti di AO al momento. Io vi consiglio la Kuchu Drag se non ce l'avete perché è il mezzo più veloce di GTA Online. Completando la prova a tempo di AO potete fare 250.000 dollari. Lo so che la Kuchu Drag costa, però insomma, tempo praticamente un mese, vi sarete rifatti i soldi che avete speso nella moto. Anche un po' meno se fate pure le prove a tempo normali. Completando la prova a tempo di AO potete fare 250.000 dollari e come con le prove a tempo normali anche queste ci saranno di giovedì in giovedì. Quindi ogni giovedì mattina del mese dopo le 11 del mattino potrete fare addirittura 350.000 dollari a settimana in totale con le prove a tempo su Next Gen. Invece su All Gen solo 100.000 però insomma meglio di niente. Innanzitutto andiamo sulla prova a tempo di AO. Settiamo il punto. Avviamo la prova un attimino ma non dovete ovviamente iniziare perché prima dobbiamo capire che strada dobbiamo fare per completare più velocemente la prova. Quindi mettiamo la X sul cerchietto giallo e in questo modo avrete il percorso da effettuare per completare più velocemente questa prova. Quindi annulliamo la prova a tempo tenendo premuto triangola e facciamola ripartire per poi ovviamente completarla normalmente. Quindi rifacciamo la stessa identica cosa con la prova a tempo normale della settimana. Vi ricordo anche che se avete trasferito l'account da Old Gen a Next Gen riceverete la S95 gratis su Sufer San Andreas Auto che si può anche inserire la trasformazione di AO. Comunque va bene anche la Turismo Classic consigliata nella guida della costruzione carriera per chi ha iniziato su Next Gen. Non serve per forza che dovete comprare la Cuccio Drag se avete già la Turismo Classic con la trasformazione di AO. Enesimo consiglio essenziale per guadagnare dollari è di guardare ogni giovedì pomeriggio il sito della Rockstar, il Newswire che pubblica sempre l'articolo dell'evento della settimana. Solitamente il giovedì esce quello inglese e poi il giorno dopo esce quello italiano dove specificano in quali business e modalità guadagni doppi, tripli o certe volte anche quadrupli di denaro ed RP. Ad esempio questa settimana abbiamo triplo guadagno di dollari ed RP sugli eventi Freemod doppio guadagno di denaro ed RP sulle 6 missioni di DAX del nuovo DLC che vi servono anche per sbloccare il laboratorio che vi ho consigliato doppio guadagno di dollari ed RP sui contratti di sicurezza dell'agenzia e doppio guadagno di dollari ed RP sulle gare Recy Classic. Potete trovare qua sotto il sito in descrizione questi guadagni doppi, tripli, quadrupli eccetera eccetera cambiano di giovedì in giovedì quindi se state guardando questo video dopo il 12 gennaio i bonus guadagno saranno sicuramente cambiati. Controllate sempre questo sito soprattutto se ci sono dei bonus guadagno doppi su business che solitamente vengono messi anche in sconto nella stessa settimana dove lo stesso business ha il doppio guadagno quindi se ad esempio c'è un possibile doppio guadagno con il bunker è probabile che il bunker sarà scontato sicché compratevi il bunker in quella ipotetica settimana e fatevi soldi con il doppio guadagno del bunker. Nonostante questo vi dico subito di evitare di comprare l'agenzia in quanto ci vuole veramente parecchio anche con il doppio guadagno per rifare i soldi spesi con i contratti di sicurezza dell'agenzia per appunto rifare i soldi che avete speso per comprare l'agenzia. Altra cosa leggete sempre se ci stanno bonus per fare determinate cose oppure anche solo un accesso su GTA Online per ricevere soldi gratis perché può capitare che ogni tanto Rockstar regala soldi o veicoli anche solo per fare un accesso in quella determinata settimana. Adesso vi insegno un metodo per fare un milione se avete trasferito l'account da Old Gen a Next Gen e giocate su Next Gen. Se siete su PlayStation 4 Xbox One o PC schippate il video a questo punto perché voi non lo potrete fare potranno farlo solamente le persone che hanno trasferito l'account da Old Gen a Next Gen e giocano su PlayStation 5 o su Xbox Series. C'è un trucchetto per fare un milione però funziona solo su Next Gen. Praticamente andando su online gestisci i personaggi vi comparirà questa specie di menu principale. Voi cosa fate? Create un secondo personaggio da Next Gen oppure sovrascrivete il secondo personaggio che già avete o se il vostro personaggio principale sarebbe il secondo cancellate il primo. Insomma se ne avete uno usate lo slot vuoto e siete a posto se ne avete due dovete sovrascrivere il personaggio che non usate però fate attenzione perché se sovrascrivete il personaggio che usate per sbaglio non ritornerete indietro quindi mi raccomando tenete bene a mente questa cosa perché se no siete fritti. in caso aveste due personaggi per comprendere meglio quale dovete cancellare teoricamente almeno io penso sarebbe quello con un numero di rp minore rispetto a quell'altro se poi non sapete quale sia dei due perché è abbastanza confusionario questo menu principale selezionate un attimo nel dubbio il personaggio che vorreste sovrascrivere per fare questo milione così capirete quello giusto che usate quindi quello da non sovrascrivere e invece quello che non usate e quindi quello da sovrascrivere per fare questa operazione che vi andrò a mostrare poi ripeto se uno dei due slot è vuoto non dovrete preoccuparvi di questa cosa io lo dico perché ci tengo che magari non facciate errori particolari una volta che avete selezionato lo slot vuoto e avete creato il secondo personaggio su questo menu principale il gioco per qualche strano motivo vi farà partire l'introduzione famosa della playstation 5 e vi darà 4 milioni di cui 3 da spendere e 1 da avere e noi dobbiamo cercare di ottenere appunto questo milione che il gioco ci regala ora voi direte si Willy ma se faccio questa cosa perderò i soldi che già possiedo e invece no anzi se avete già dei soldi su quello principale in pratica un milione dei 4 verrà aggiunto ai soldi che già avete quindi la chiave sarà semplicemente quella di spendere 3 milioni in queste schermate e lasciarsene uno da parte per avere un altro milione facile in pratica dovete semplicemente copiare quello che state vedendo nel video per avere un'introduzione del secondo personaggio facile e veloce per ottenere il milione attenzione questa costruzione carriera che state vedendo serve solo per semplificare il processo per ottenere questo milione vi ricordo che non è la costruzione carriera più adatta la vera costruzione carriera da seguire se avete creato il personaggio per la prima volta su next gen si trova qua sotto nella descrizione del video quindi questa costruzione carriera serve semplicemente per far avere a quelle persone che hanno trasferito questo milione facile a questo punto insomma copiate quello che state vedendo nel video sia la versione con il criminal che senza avviate l'introduzione completate quello che il gioco vi chiede depositate tutti i soldi in banca cambiate personaggio e voilà avrete un milione in più potrebbe esserci una piccola chance che il gioco si bughi mentre siete nell'ufficio a fare l'introduzione per risolvere tornate nel menu principale start cambiate tipologia di mira dopodiché cliccate x su questa schermata e da lì il caricamento come l'introduzione ripartirà e dovreste essere a posto purtroppo questa operazione è valida solo per chi ha trasferito l'account per chi invece gioca per la primissima volta a gta online direttamente da next gen non potrà fare questa cosa un altro consiglio che vi do per fare denaro se siete agli inizi è di sbloccare il laboratorio di acidi che costa solo 750 mila dollari più 250 mila dollari per potenziarlo lo sblocco è davvero molto semplice dovete fare 6 missioni dell'ultimo DLC uscito circa un mese fa allestire il bricade e avrete la possibilità di comprare il laboratorio di acidi già facendo 6 missioni quelle del DLC per sbloccare il laboratorio guadagnerete sui 150 mila dollari in più comprando il laboratorio avrete praticamente un business stile bunker dove i soldi verranno prodotti semplicemente stando online su gta per sbloccare il miglioramento dovete completare 10 incarichi di dax gli incarichi si avviano chiamando dax al telefono e già facendo questi 10 incarichi vi farete 500 mila dollari essendo che un incarico di dax paga 50 mila dollari per avviarne un altro dopo averne completato uno si dovete aspettare 48 minuti ma dovete sapere che in realtà esiste un piccolo trick che vi lascerò sempre in descrizione per avviare un altro incarico di dax senza aspettare questi 48 minuti così che tempo un'oretta avrete già un laboratorio di acidi allestito al massimo e 250 mila dollari dato che di quei 500 dovrete spenderne 250 per avere il miglioramento al laboratorio i migliori incarichi di dax sono beni liquidi metalli pesanti e lavoro da remoto ora vi mostro invece un paio di glitch abbastanza semplici e veloci per fare soldi esiste un glitch per annullare le perdite al casino e salvare invece quelle vincenti quindi se perdete non perderete appunto i soldi che avete scommesso se vincete vi mostro come salvare la vincita che avete appena ottenuto quando giocate delle fish a blackjack o a poker a tre carte mettete puntata massima e fate così se vedete che avete vinto uscite dal tavolo comprate delle munizioni una volta anche solo per la pistola costa 60 dollari poi andate su stile accessori e cambiate qualsiasi accessorio occhiali cappelli maschere non importa dopodiché togliete il menu inventario e aspettate questo cerchietto rosso in basso a destra che finisce di caricare fatto questo riprovate fin quando non perderete quando perdete la scommessa quando avete letto che avete perso chiudete l'app oppure disconnettete la rete per poi riaprirla e riprovare potete sia chiudere l'app che disconnettere la rete non importa quale metodo scegliete io ho scelto di chiudere l'app per comodità vi ripeto non è importante potete anche staccare il cavo ethernet o andare sulle impostazioni della play e staccare la rete nel momento in cui avete letto che avete perso l'importante è salvarsi ogni giocata vinta uscendo dal tavolo comprando delle munizioni e cambiando stile per poi fare apparire il cerchietto rosso quando vincete se il cerchietto rosso non appare subito continuate a spammare un cambio di accessorio e togliere e rimettere il menu inventario finché non apparirà perché senza questo cerchietto rosso il gioco non salverà nulla funziona su tutti i tavoli sia per i blackjack che per i poker a tre carte anche sulla roulotte potete fare la stessa cosa con la ruota della fortuna non appena la ruota sta smettendo di girare state vedendo che non vi sta dando un premio che volete chiudete l'app e potete ritentare nuovamente senza problemi un altro glitch di dollari molto potente è il semi money freeze un glitch veramente bestiale che vi permetterà di fare 100 milioni in due ore però non posso proprio parlarvene in alcun modo in questo video su questo canale causa rischio di copyright quindi se volete saperne di più al solito sempre link in descrizione posso solo dirvi questo è vero che ovviamente è il glitch più rischioso però se vi consola da quando è uscito a oggi nessuno è stato bannato il mio consiglio magari se proprio avete paura di ban e cose del genere è di farlo su un account che vi frega poco e nulla se siete bravi potete fare veramente tantissimi milioni nel giro di pochissime ore letteralmente mutarvi un account da solo l'unica pecca è che funziona solo su playstation 4 e xbox one esiste anche un glitch del nightclub se non lo avete lasciate perdere perché potrebbe essere patchato e perché ci vuole un po' di tempo per recuperare i soldi con il night che dovete spendere per comprare ma se lo avete già ben venga innanzitutto il nightclub deve avere un minimo di popolarità se non ha un minimo di popolarità non funzionerà assicuratevi appunto di avere un minimo di popolarità dopodiché abilitate la modalità passiva entrate nel nightclub andate sul puntino azzurro nella mappa e buttate fuori la persona ubriaca fatto questo uscite dal nightclub rientrate nel nightclub e rifate lo stesso procedimento quante volte volete perché ogni volta che uscirete rientrerete praticamente il gioco vi farà sponare sempre una persona ubriaca persona ubriaca che se butterete fuori vi farà guadagnare 10.000 dollari a persona ubriaca quindi potete capire che facendo questa cosa guadagnerete praticamente 10.000 dollari ogni 30 secondi inoltre dovete anche sapere che lo stesso glitch che vi serve per saltare i 48 minuti di attesa di Dax li potete fare anche per riempire le scorte del nightclub velocemente chiamando appunto Johan al telefono perché se voi chiamate Johan al telefono e fate la missione della scorta dovete aspettare tipo 18 minuti ecco facendo lo stesso identico glitch per saltare i 48 minuti di attesa di Dax lo potete fare anche per saltare questa attesa per avviare un'altra missione di scorte del nightclub e quindi fare missione di scorte per il vostro nightclub all'infinito senza tempi di attesa un altro modo per guadagnare anche divertendosi è di giocare le tre missioni dove giocate nei panni di Franklin e Lamar se non avete un amico con cui giocarle andate in una sessione pubblica aprite il telefono andate su avvio rapido missioni dei contatti e fate viaggio sballato in caso non vi trovasse persone che ostano queste missioni provate a ostarne una a voi sempre in una sessione pubblica aprendo il menu di pausa attività avvia attività create da rockstar e selezionate una delle tre missioni chiamate viaggio sballato dopodiché dopo che il gioco ha caricato per un po' e vi farò vedere questa schermata premete cerchio scegliendo host a questo punto aspettate qualche minuto tempo che entra qualche giocatore che sicuramente entrerà in modo tale che possiate avviare la missione viaggio sballato anche con un giocatore preso a caso dal gioco queste missioni non pagano tantissimo è vero parliamo di 50.000 dollari niente male comunque se contate il fatto che sono sicuramente le missioni di gta online più divertenti da giocare come bonus a questo video anche se non reputo più buoni questi metodi da guadagnare abbiamo i metodi più classici ovvero le missioni VIP del CEO che per avviare dovete andare su CEO Secure Serve in carico del boss le migliori sono cacciatori di teste dove dobbiamo eliminare tutti i bersagli prima che scada il tempo acquisizione ostile dove dovremo recuperare da una zona una valigetta da consegnare in un punto la mappa e viaggio d'affari un incarico dove dovete raccogliere dei pacchi che vi spunteranno sulla mappa una volta completate dei minigiochi sul telefono con il cacciatore di teste vi fate 21.000 dollari con acquisizione ostile 16.000 dollari ed infine con viaggio d'affari 22.000 dollari ultimo consiglio extra se volete sfidare la sorte e sperare di trovare delle brave persone che stanno giocando un colpo finale potete cercare delle persone che appunto stanno ostando non le missioni preparative ragazzi ma proprio i colpi finali dovete andare in una sessione pubblica aprire il telefono andare su avvio rapido colpi e scegliere quale colpo volete giocare saranno tutti i colpi finali ostati da giocatori in tutto il mondo è chiaro che però è un bonus a questo video perché ci sono vari problemi potreste incontrare dei giocatori che vi danno la spartizione di denaro più basso ma soprattutto dei giocatori che non sanno giocare o che peggio ancora si disconnettono mentre giocano rischiando di farvi perdere tempo per nulla però se volete provare magari potreste trovare il tizio generoso di turno che vi spartisce almeno la metà del colpo i migliori colpi ovviamente sono il colpo a Caio Perico il colpo del Casinò e il caso Bogdan del colpo dell'apocalisse adesso voi direte Willy ma cosa ci faccio adesso con questo denaro potete fare due cose o comprare la base operativa per fare tutti e tre colpi dell'apocalisse per poi avere il famoso glitch del caso Bogdan nella propria base operativa un glitch dove potete avviare la seconda rapina del caso Bogdan che sarebbe il colpo più facile da fare di Gittola in assoluto dove vi permetterà di guadagnare letteralmente un milione e mezzo in 15 minuti l'unica pecca è che però purtroppo servirà sempre una persona e voi che siete host non guadagnerete nulla quando giocate questi colpi per questo potrebbe essere un ottimo modo per avere questo colpo pronto nel vostro account in modo tale che potete scambiare questo colpo con altri giocatori che ce l'hanno e quindi farvi una sorta di trading con altri giocatori che hanno il caso Bogdan nel proprio account su youtube questo glitch ovunque comunque sicuramente anch'io lo metterò su youtube prossimamente oppure se siete in solo e proprio non sapete che fare potete comprare un cosatka e fare i colpi a caio perico che sono avviabili anche in solo che direi si tratta del business che paga di più per le persone che giocano in solo a gt online anche qui ci stanno guida bizzefe su come completare il colpo a caio perico facilmente da soli e addirittura sempre un glitch su come saltare sia le preparazioni che avviare questo colpo senza dover sempre rifare tutte le preparazioni da capo troverete sempre il link in descrizione quando lo posterò nel frattempo sono certo che potete trovare una marea di guide su youtube sia di come fare facilmente questo colpo che di come saltare le preparazioni e avere sempre il colpo finale pronto a portata di mano o ancora diversi business in gioco che vi permetteranno di fare dollari dal business dei magazzini delle casse fino agli stabilimenti di droga dei bikers dell'ankar del bunker l'agenzia l'auto officina c'è di tutto e di più come sempre tutti i video che potrebbero servirvi per guadagnare al meglio su gta online li trovate qua sotto in descrizione spero che questa guida possa esservi tornata in qualche modo utile ho voluto riassumervi in breve come iniziare anche al rango 1 su gta online sperando di darvi un'esperienza di gioco migliore se vi è piaciuta questa guida lasciate un bel mi piace perché è il modo migliore con cui ringraziarmi per questa mega guida su come iniziare su gta online nel 2023 da Zwillix è tutto noi ci sentiamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.